Ciao a tutti e benvenuti, voglio parlare di Ciccio Gazziani che ha iniziato nell'Averso per Natura, come sappiamo, prima da Roma e per Natura e prima, e anche in Italia ha vinto tanti mangiavi, come sappiamo, avevo parlato di oggi di Ciccio Gazziani, Francesco Gazziani, quindi ha fatto tanti gol, capocannoniero delle quadre, e quindi neanche ho parlato di Ciccio che ha iniziato a giocare e quindi è andato in questa quadra, come ho detto, nell'Averso, nella Roma e nella Fianniva e quindi niente, per Natura che ha vinto il Mondiale, quindi dicevano anche Paolo Ross e quindi niente, avevo parlato di Ciccio Gazziani e quindi niente, avevo parlato di lui che ha vinto tante coppe del giocatore e poi si è attivato, e quindi ho fatto anche altre cose, e quindi avevo parlato di Ciccio Gazziani che ha fatto tante cose, quindi niente, avevo parlato di lui, questo giocatore, ex giocatore, che aveva fatto altre cose, quindi niente, se il video vi piace, lasciate un bel like al video, lasciate un bel mi piace al video, mi raccomando, e quindi niente, avevo parlato di Ciccio Gazziani, in francese, detto Ciccio Gazziani, non sembrano Ciccio Gazziani e quindi niente, avevo parlato di lui, spero che il video vi piaccia, e che Ciccio Gazziani e quindi niente, ricevendo queste quadra, l'Averso, Roma, l'abbiamo detto e quindi niente, avevo vinto tante coppe, mangiare, il capo con il neve della Roma, quindi niente, anche altri giocatori, quindi niente, avevo parlato di Dio e ciao a tutti. Grazie. Grazie a tutti.